20.000 likes e quindi continuiamo la nostra serie survival dentro un libro gigante Io e Ferre siamo divisi quindi l'avventura continua ognuno per sé Ciao Ferre Ciao Eh non ti vedo neanche Io sto cercando di vederti Aspetta se stai lontano ci vediamo Ciao 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 Tutto bene? È bello l'inferno sì Ti stai iniziando ad ambientare? Allora sì sono riuscita ad ambientarmi un pochettino Poi ti racconto tutto quello che ho fatto Ok faccio prima un po' il mio recap e poi fai il tuo Allora eravamo rimasti che io avevo tutti gli utensili preparati E ricresciuto del grano dato che siamo stati fermi per un bel po' Quindi guardate quanto bel grano mi posso fare un bel po' di paninetti Anche Ferre sarà sicuramente piena di grano Sì Stef ho trovato il modo di piantarlo che ti faccio vedere Però ne hai uno Eh dopodiché mi sono cresciuti Dovevi fare se breghe ne avessi tanto ok? Ma tanto quello vero Ne ho 15 va bene? Dicevo poi mi sono cresciuti un sacco di alberi quindi mi prendo tutta questa legna E io vi dico dai faccio Ferre fai vedere tu Perché tanto Cioè devo tagliare alberi non c'è nulla di interessante Non mi prendere in giro Già finito il tuo tour Allora allora eccoci qua Ma allunga questa No questo è tutto quello che ho Vabbè Allora ho scoperto che i semini in questi blocchi si possono piantare Ok E anche senza acqua crescono Ok Perché comunque sta crescendo Gli alberi sono ancora fermi Poi comunque sono andata un pochettino in miriera a prendermi un po' di pietra E mi sono fatta il piccone di pietra Vedi che poi ho trovato anche del carbone che ovviamente mi è servito anche per Ok Cioè scusami Ho preso anche il ferro Quindi il carbone mi è servito per cucinare i blocchi di ferro E penso che ora mi farò gli utensili in ferro Ok Capito? Ok sì Quindi per poi continuare a minare in miniera Perché ho visto Avevo intravisto l'altra volta Che ci sono degli smeraldi E gli smeraldi mi salvano per prendermi biscotti Capito? Nel negozio Ancora sta cosa dei biscotti Il mio obiettivo principale di oggi è andare a prendermi biscotti E ovviamente sono riuscita a fare anche le zuppette di fungo Quindi adesso sono a posto Che bella fare le serie super bello con te E infatti dovevi parlare delle zuppette di fungo Dicendo che appunto ce l'hai fatta Finalmente hai scoperto la ricetta della nonna Sì l'ho guardato perché non mi ricordo come si craftano Lo sappiamo Ovviamente Quindi vedi qua ho le ciotole Ho fatto le ciotole Le ho messe a fare E niente Me le sono mangiate Ok Allora Torniamo sul mio schermo Io sono un po' più indietro di Ferre Perché ho lasciato un pochino di vantaggio a Ferre Gli ho dato la possibilità di giocare un pochino Perché ero molto bassa Perché era molto bassa Perché sapete l'inferno è più complicato A ventina di minuti Esatto Esatto Quindi devo recuperarla Soprattutto in che cosa? Nell'ambito del ferro Perché io ferro non ne ho ancora preso Quindi adesso vado subito in miniera Cerco del ferro E con quel ferro ci facciamo il piccone di ferro Of course Allora Per Of course Prendere i minerali migliori Gli smaraldi per prendere i biscotti No io non li voglio i biscotti Io appunto al diamanti Per fare una spada Per ammazzarti Ma sei cattivo Allora piccone in ferro Me ne faccio Dai uno mi basterà Non penso che ho bisogno di sprecare Questo sarà ferro Vediamo Adesso lo prendo È strano Io all'inizio l'avevo confuso Con il gold Perché è strana Con questa texture pack Qua ci sono smaraldi Qua c'è un altro iron ore Perché è comparsa la luce? Ah praticamente Una cosa che ho scoperto Se tu dai un colpetto Ai blocchi di redstone Ti fa luce Dalle A quello alla tua destra Dall'altra parte Sinistra Redstone Redstone Ma Steph sei cieco Lo vedi? Ti illumina Se gli dai un colpetto L'ho scoperto esplorando la miniera E perché? Non lo so Però è comodo Allora dopo un po' puoi scompare Quindi li devi riaccendere Però è comodo Perché non hai bisogno così Di metterti troppe torce Ok E quindi io il carbone L'ho usato anziché Per fare le torce Per cucinare il ferro Questo era oro Ma non si capisce Non si è nata la differenza Devo stare attento A vedere se me lo spacca o meno Comunque Io tre me li sono già fatti Ok Ho uno di carbone in base Quindi io torno già su Mi metto a cuocere Tutto questo bel ferro Faccio il piccone E poi torniamo qua E iniziamo a prendere roba seria Che poi tecnicamente Non è colpa nostra Il creatore della mappa Consiglia di mettere Questa texture patica Lui ha detto Per un'esperienza migliore di gioco Mettete questo È bene Ha fatto bene specificarlo Quindi cioè Non siamo stati noi E lui che la consigliava Ho pensato fosse meglio Però in effetti Per il ferro Anche a me non piace troppo Sta roba Però va bene dai Però sai D'atmosfera Dai ti abitui Ti abitui Non so come risalire Era qua ecco Perfetto Allora io qui Ho fatto un sacco di cuniculi Sì perché sono stato Un bravo ragazzo Dai Vedo una ceppa Questa è l'unica cosa Che ho fatto bene Fino ad ora Opla Ok Torno qua Dai sto andando benissimo Poi è bello Perché tu vai miniere Non ti rendi conto Che mentre è notte fuori Perché tanto sei Capito Già al buio Almeno non ti viene La tristezza della notte Io mi sto perdendo Steph ovviamente It's a good thing Allora Prendiamo questo Mi serviranno Cobblestone Ricordavo di averne già Infatti non ho formato Per quello Ci facciamo La nostra bellissima fornace L'andiamo a mettere A posto di questo semino Che neanche ci serve Il semino lo buttiamo Qui dentro Dei lapis E mi capita il vetro Della mappa Va bene Qui però ho visto Ok Facciamo coal Iron ore E fra poco Ci possiamo fare il piccone Ci prendiamo anche I bastoncini Che avevo già fatto Giusto Ne ho Sì Perfettissimo Ok dai Sto andando bene Il ferro comunque Continua a prendermelo Che è strautile Io ho gli alberi dopati Comunque Cioè E vabbè I miei non sono mai cresciuti Ma Cioè Abbiamo iniziato il video Da quattro minuti Mi è ricresciuto Capita Io con te non ci parlo più Ok Lo faccio passare io All'inferno adesso Che vuol dire Lo faccio passare io Lo faccio passare io Ma mi scusi No Stef Sei un maledetto Eravamo amici Ma perché Ma perché Tutte le fortune Perché mi hai dato il paraliso E c'è l'inferno Non è vero Lo sanno tutti Che tecnicamente L'inferno È la parte più divertente Stef Io mi volevo solo divertire Ma solo tu lo pensi Della luce che mi hai detto È straordinaria Eh l'ho scoperta io Bella vero Sì È molto carina Dicevo Stef Bisogna sempre lamentarsi nella vita Perché lamentando Che si cambiano le cose Io cambierò l'inferno Capito Lo renderò Ferelandia Ferelandia Allora Mi servono Credo che ci sia molta gente Non accordo con te Degli Smeraldi Questo credo sia oro Raga Che succede a fare Ho trovato un diamante Un diamante Sì Lo vedi la ciment Lo vedi Dai Mi sono girata Che ero qui Dimmi che ce ne sono altri Ti prego No mi sa che era un unico diamante Proprio così solo Soletto Qui c'è una cesta Vabbè non c'è nulla Dai non ce ne sono davvero Nient'altro Qui vicino Io ho preso gli smeraldi Ma gli smeraldi Non mi sono Non che utili Io stavo cercando i diamanti I diamanti sono più belli Più forti No non c'è altro Qua raga non si vede più una ceppa Non vi sto facendo vedere troppo fere Perché tanto Cioè siamo entrambi in miniera Raga Cambia ben poco Poi guarda Te lo dico Quando mi succede qualcosa di particolare Esatto 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 Infatti ho letto qualcuno che ci chiedeva Ma perché fate vedere così poco fere Perché se vi cambiamo troppe volte l'inquadratura Si capisce poco Quindi abbiamo pensato Facciamo vedere le cose importanti Fa venire Un po' di stordimento Cambiato in continuazione Quindi facciamo vedere solo le cose Che hanno senso di essere fatte vedere Giustamente Esatto Ah dove me ne vado? Comunque ci sono davvero dei cunicoli minuscoli Cioè bisogna sapersi muovere in questo posto Si No è È un po' un labirinto Poi ogni tanto ti perdi Perché ricapiti sempre negli stessi posti Non è semplice muoversi Ah Io volevo vedere Io volevo vedere cosa c'è qua raga Ok ho provato a rompere qua Vediamo che c'è Ok Sembra nulla Sembra che si ricolleghi comunque ad altre zone Ma questo è costante Si ricollega sempre È tutto che si ricollega Esatto esatto Ma non è che ci ritroviamo Boh Potrebbe No non credo dai Vediamo se riesco a farmi Una crafting table Cavolo c'è troppo Per craftarmi delle torce Perché non ne posso più No anche io Non basta la redstone che trovi Cioè ti fa un attimino dannare Facciamo così Poi tolgo un attimo questo Un attimino anche io Mi faccio altri bastoncini Facciamo così Ce le creiamo tutte Ok mi sono fatto 20 torce E ho Sinceramente No si non fa Basta Almeno sto meglio La crafting ce la riprendiamo pure Così se mi serve per qualcos'altro Me la posso gestire In serenità E qui raga Iniziamo a trovare roba Davvero davvero interessante Cioè Quanti smeraldi ci sono? Tanti Ma in realtà è solo uno Va bene Sembravano tanti all'inizio Allora qui ho trovato Un po' sicuro interessante Vediamo Ok carbone Che è utilissimo Quindi perfetto Carbone anche io Però io non ci capisco più nulla A me è anche cresciuto il grano Però è uno Io sto sempre morendo di fame Stef Cioè non ne posso più Poi allora mi è cresciuto un albero Ne ho piantato un altro E se è buggato Mi fa cadere alberelli all'infinito Che non posso più prendere Va bene va bene Lo lascio lì Ciao Comunque mi è venuta un'idea Che idea Non te la posso dire Perché metto che ti metto un'idea Perché devo trovare un modo Per avere cibo Stef E la mia mente l'ha trovato Ok Brava Ti faccio un applauso dopo Che tu non sai che c'è una cosa Che si può fare Raga E quando si è disperati Si è disposti a tutto Stef ovviamente Non trovo Più Dove cavolo devo andare Sto ritrovando soltanto dei posti Che ho già esplorato Però non ritrovo Né casa mia Né posti Che io non ho controllato E quindi non capisco Come sia possibile Mi dispiace Stef Se ritrovo solo posti Che ho già visto Eh ragione E se ritrovo Però Non ti sei messo delle torce Si però non ritrovo casa La tristezza Né Né casa Né il Né altre cose interessanti Eh si 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 Bene la smetti No Cosa la stai facendo Io sto facendo il mio piano diabolico Stef Ma bene Ho capito che è un piano diabolico Cos'è Piantare i funghetti Per tutto un mese Sì Sì Eh tu si che sei curva Certo crescono solo i funghi qua Eh lo so Quindi ovviamente Un po' veracide Deve anche sopravvivere Mi sembra logico no Eh certo Eh scusa Però non è proprio Io ho sempre fame poi Nella realtà E su Minecraft Cioè sembra fatto apposta Io non so se salutare Mangiando solo funghetti Però fare eh Eh infatti È per quello che sto agendo Stef Cosa stai facendo Mi sto procurando cibo Io guardo il tuo schermo Pere Non guardare il mio schermo Pere È quello che penso Quindi non puoi tornare Pere è quello che pensa No Pere Aspetta Stai ancora un po' giù No no Però io ritrovo a casa Allora Come faccio Tanto l'importante È andare verso l'alto Vabbè Tu non hai trovato Abbastanza diamante Brutto maledetto Togliti che non mi fa mettere il blocco Sei in mezzo Togliti Ci sarà solo un blocco Tra me No Non ho potuto mettere gli altri due Mi dispiace perché Dai Stef Te ne ho preso Solo sei Ho trovato un passaggio segreto strano Per venire da te Fere Ok È stato stranissimo Cioè io ho pensato Solo vado verso l'alto E sono sbucato da dentro casa Bravo E sono arrivato da te Altrimenti ci avrei messo un sacco Infatti Infatti ho detto Cavolo La cesta non l'hai toccata Che cosa avevi nella cesta? Il grano Eh lo so Ma Stef Avevo fretta Tu eri già lì Ah e allora Quindi ho rubato un po' di semi Dai mi bastano i semini Perché non ho nulla Allora vabbè Mi morio di fame Poi già ci mettono la vita A crescere perché non ho l'acqua Cioè qui cresce Però lento Fere ti dico una cosa Allora vediamo Stai zitto Non so neanche dove piantarlo Perché non hai fatto un secchiello Per rubarmi l'acqua? Ah? Perché avrei dovuto? Perché così ti facevi La piantagione decente Allora torno Hai ragione Aspetta Devo fare prima il secchiello Però E vedi Tu le pensi bene le cose Stef Sei un ladro migliore di Come si faceva per piantare Io non mi ricordo più Come avevo fatto Non ho idea Avresti potuto rubare anche la terra Sai vabbè Ah perché sto usando Che succede? Io non capisco più nulla Penso di stare usando una pala No è l'ho È l'ho È giusto Perché non funziona più Non lo so In ogni caso ragazzi Fermiamo così Prima che Fere provi a tornare qua A rubare le cose Che non mi sta bene Non ti do proprio nulla Cara Non ho già accettato Che mi hai rubato tutti Quei semini Adesso la mia piantagione Va più lenta Ma stai zitto che tu sei pieno Cioè capito La piantagione La piantagione Sono in paradiso Per un motivo Ma stai zitto E appunto Non è che fai inferno Inferno per rubi Con i poveracci Che sono finiti all'inferno Uno dei due ci doveva finire Quindi non rompere In ogni caso Ci fermiamo così Supportate ancora la serie Se volete vedere Il terzo episodio Che potrebbe essere anche l'ultimo Considerando che Fere Ha già la possibilità Di invadermi Quindi è un bel problema E quindi supportate la serie Altri video qua sotto Da qualche parte Che compariranno qui sotto Da qui da bellissimi Super mega fantastici E ci fermiamo così E ci fermiamo così